Buonasera i principali titoli di questa edizione, omicidio al Reggio Calabria, figlio uccide il padre a coltellate, incidente mortale sulla statale Ionica 106 a Serra, iniziativa politica di Fratelli d'Italia, mentre continuano le polemiche dopo il rimpasto di Giunta. A Chiaravalle la visita del commissario ASP Giuseppe Fico, che ha incontrato il sindaco e i responsabili della Casa della Salute. Parleremo anche delle elezioni comunali a Squillage e del congresso regionale di Lega Coop a tra poco. Ben ritrovati, dunque lo dicevamo nei titoli, un giovane di 28 anni, Simone Bova, ha ucciso con alcune coltellate il padre Domenico di 59 al culmine di una lite. L'omicidio è accaduto a Reggio Calabria e nell'abitazione di famiglia Simone Bova, che risulta avere lievi precedenti di polizia, è stato arrestato subito dopo dal personale delle volanti e della squadra mobile della Questura. Un uomo di 90 anni di soveria Simeri è deceduto per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 in località Simeri Mare. Il tamponamento è avvenuto tra una utilitaria su cui viaggiava l'anziano e una Volkswagen Polo. Sul posto mezzi di soccorso del 118, carabinieri di Sellia Marina che hanno ricostruito la dinamica. L'uomo stava invertendo la marcia per accedere a una strada interna quando si è scontrato frontalmente con l'altro mezzo che proveniva da Crotone. E adesso cambiamo completamente pagina. Consiglio dei ministri in Calabria. Dopo l'annuncio del Premier Conte, tante le richieste per ospitare il Governo nazionale. Il Premier Giuseppe Conte annuncia un imminente consiglio dei ministri in Calabria. Reggio Calabria o Gioietauro le possibili sedi di lavoro. Una decisione che non soddispe il capoluogo di regione, Catanzaro, resta ancora una volta tagliata fuori come già accadeva in passato con Renzi, più volte ospite della città dello Stretto. Malumori sui tre colli che non si placano. Ma ci sono anche altre comunità calabresi che dichiarano di avere le carte in regola per accogliere il Governo nazionale del Paese. Da Serra San Bruno, città della Certosa famosa in tutto il mondo, a Paola, tradizionale epicentro del culto di San Francesco. Alla fine cosa deciderà Conte? Un luogo simbolo come Gioietauro, viste le recenti polemiche sulla Via della Seta, potrebbe spuntarla sul filo di lana. Ed è ancora caos alla Mezzia, la protesta del sindaco Mascaro contro lo scioglimento del Consiglio Comunale continua. Sciolto, reintegrato e adesso sospeso. Non c'è pace per il Consiglio Comunale di La Mezzia e per il sindaco Paolo Mascaro. La decisione del Consiglio di Stato, che di fatto ha annullato l'esito positivo del Tar, che rimetteva in sella la sisse civica dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, ha fatto esplodere la protesta del primo cittadino. Sciopero della fame per Mascaro contro un provvedimento da lui giudicato lesivo della democrazia. Intanto la vicenda rimette in discussione i principi dello scioglimento degli enti locali, con interventi trasversali da destra e da sinistra. E a Serra San Bruno riunione organizzativa di Fratelli d'Italia. Vanda Ferro è tornata a Serra San Bruno, città simbolo della sua vittoria alle scorse elezioni politiche, per confrontarsi con la base. Obiettivo della deputata aggregare amministratori e simpatizzanti, che dimostrino capacità etica e morale, facendo capire che Fratelli d'Italia è l'opposizione responsabile del Paese. Continua il processo di radicamento sul territorio di Fratelli d'Italia, un processo che ha portato il partito ad estendersi anche in realtà dove prima la destra era quasi sconosciuta. Questo anche nell'ottica delle prossime elezioni regionali? Intanto nell'ottica delle prossime europee, che per noi diventano un banco di prova importantissimo. Abbiamo dimostrato alle regionali, sia in Abruzzo, con Marsilio, Trapentisi, un candidato a governatore, oggi governatore in sede, di Fratelli d'Italia, di aver aumentato i consensi insieme alla Lega. Ovviamente un centro-destra unito, ma Fratelli d'Italia cresce e continua a radicarsi. E' quello l'impegno che mi sono ovviamente posta, non soltanto come commissario provinciale, seguendo anche il buon lavoro fatto precedentemente da Rosaria Versa, oggi vice coordinatore regionale, ma quello di lavorare per tutta la Calabria. L'importante è essere sui territori, tra la gente, riportare quel mondo della destra a quella casa importante, comune, che con Giorgia Meloni vede un leader, donna, ma di grandissime capacità e soprattutto, perché no, anche riportare gente che non viene sempre dal nostro mondo. L'importante è avere gli stessi obiettivi futuri, perché non sempre si può rimanere chiuso, infatti la scelta di aderire ai sovranisti e conservatori e quindi anche al gruppo europeo è stata una scelta chiara di Giorgia Meloni e della classe dirigente tutta, che abbiamo sposato in pieno. Oliveri è tornato pienamente in libertà, il vostro giudizio sull'azione della giunta regionale rimane trancian. Quali sono i vostri prossimi obiettivi? Allora, per quanto riguarda, ovviamente è ritornato in attesa, ovviamente, di quello che sarà poi il percorso ancora giudiziario aperto. Ne siamo felici sul piano umano, oltre che politico, perché non mi appartiene la politica, che spera che l'avversario cada su vicende giudiziarie. Non ho fatto nessun articolo prima, non do ovviamente oggi nessuna solidarietà. Dico che ne sono felice e contenta, ma per quanto riguarda l'operato della regione, credo che, secondo me, dovrebbe tornare un po' di moda quel senso di pudore nel ridare parola ai cittadini, perché credo che i calabresi abbiano chiaramente quello che non è stato fatto, perché poco, credo, si possa attribuire a questo governo regionale. E sempre a Serra San Bruno, polemiche politiche dopo il rimpasto di giunta. Dimettetevi e restituite la parola ai cittadini. Lo ha detto Alfredo Barillari, leader dell'opposizione di Serra San Bruno, rivolgendosi al sindaco e alla sua maggioranza. Dopo il rimpasto di giunta e l'accordo politico tra Tassone e la componente di minoranza guidata da Elenia Tucci, ancora polemiche dunque nella città della Certosa. Dal palco di piazza San Giovanni, Barillari ha messo sul banco degli imputati l'affidabilità e l'autorevolezza di chi dovrebbe rappresentarci, accusando chi ha agito per spartirsi poltrone e indennità, e ha messo Serra San Bruno al centro della politica regionale per fatti vergognosi. Fendenti precisi nei confronti di Luigi Tassone, definito sindaco in confusione totale, scavalcato dal nuovo sindaco in pectore, che è colei che è entrata come stampella della maggioranza. E a Chiaravalle Centrale, oggi il commissario ASP Giuseppe Fico ha visitato la Casa della Salute. Ho trovato una bella realtà che va sicuramente potenziata, le sue dichiarazioni. Visita del commissario straordinario ASP di Catanzaro, Giuseppe Fico, presso la Casa della Salute di Chiaravalle Centrale. Un incontro programmato per fare il punto della situazione rispetto alle esigenze presenti e future, a breve termine, dell'ex ospedale San Biagio. Ad accoglierlo è il responsabile della struttura, Rocco Ocilurzo, la direttrice facente funzioni del distretto sanitario di Soverato, Tiziana Parrello, e il sindaco Mimmo Donato. Ho trovato una bella realtà che va sicuramente potenziata, ha commentato Fico, dopo aver visitato i reparti e aver dialogato a lungo con gli operatori presenti. Ho fatto un ragionamento molto chiaro, ha spiegato il commissario ASP. Siamo in piano di rientro, le risorse sono scarse, ma con una buona programmazione si può fare tanto. Rispetto alle esigenze di personale della Casa della Salute, adesso serve solo un medico radiologo, ha puntualizzato Fico. In tal senso sarà avviata una specifica procedura concorsuale. Il commissario ha chiesto anche di dettagliare all'interno di un piano le esigenze di tecnologie e attrezzature. Poi chiederemo alla struttura commissariale regionale gli investimenti necessari, ha concluso. Altro capitolo, quello della realizzazione del nuovo edificio, prevista per domani la conferenza dei servizi necessaria per dare il via libera alle future procedure di gara. Vogliamo dare a Chieravalle un crono programma fatto di certezze e date precise, ha annunciato Giuseppe Fico. Sulla Casa della Salute dobbiamo impegnarci tutti per recuperare il tempo perduto. Il sindaco Mimmo Donato ha colto l'occasione per ribadire il ruolo strategico dell'ex ospedale in ambito territoriale con tutti i nuovi servizi attivati o in fase di attivazione. Ci sono state difficoltà in passato che ora sembrano definitivamente superate, ha dichiarato Donato. Adesso serve una visione condivisa per valorizzare al meglio quanto abbiamo saputo conquistare in questi anni. Bene, adesso ci fermiamo un attimo per una brevissima pausa. A tra poco, per le altre notizie. Ben ritrovati in studio, parliamo delle elezioni comunali di Squillaccio con questo servizio. Si è svolta presso la Casa della Cultura di Squillaccio la presentazione della lista per il rinnovo del sindaco e del Consiglio Comunale Tutti Insieme per Squillaccio, che vede candidato a sindaco il giornalista Oldani Mesoraca. Nel corso del suo intervento ha presentato i primi dieci candidati a consigliere. Si tratta di Pina Laluna, Daniela Lioi, Concetta Sinopoli, Mimmo Albanese, Tonino Facciolo, Francesco Lioi, Sandro Mauro, Claudio Panaglia, Saverio Settembrino, Enzo Zofrea. Due posti sono ancora liberi per dare spazio alle new entry. In arrivo le elezioni amministrative nella provincia di Catanzaro. 26 maggio si voterà anche nel comune di Squillaccio. Iniziano i primi movimenti. Questa sera si presenta la lista Tutti Insieme per Squillaccio, che vede candidato a sindaco il dottor Oldani Mesoraca, un giornalista. Lei nella sua presentazione, ma soprattutto nel suo programma, emerge un concetto, l'unione, tutti insieme. C'è questo momento in cui ognuno può dare un contributo per il rilancio di questo paese? E' quello che stiamo cercando di fare sin dall'inizio, da quando abbiamo cominciato da circa un anno a fare questa battaglia, questo lavoro. E' per questo che abbiamo detto tutti insieme, nella speranza che si possa arrivare, noi lo speriamo ancora, all'unità. All'unità di questo paese, di questa comunità, di cui ha tanto bisogno, soprattutto per lo sviluppo e per le prospettive di questo comune. Ci stiamo lavorando, intanto noi ci siamo e siamo in tanti. Lei è un giornalista, quindi ha curato moltissimo l'aspetto anche della comunicazione istituzionale, ma anche della Gazzetta del Sud. Come vede oggi questo paese? Da cronista purtroppo devo registrare che c'è stata una battuta d'arresto in questi ultimi anni. Una distrazione totale da parte dell'amministrazione che è caduta, tra l'altro, perché i consiglieri di minoranza sono riusciti a fare dimettere. E' quindi dimissionato d'ufficio sostanzialmente il sindaco uscente via un commissario prefettizio. La dice lunga la necessità che c'è di lavorare, lavorare tanto per ridare soprattutto dignità a questo comune. Squillaci è un comune conosciuto in tutto il mondo, la ceramica, la storia, i normanni. Però Squillaci, diciamo, negli ultimi decenni ha perso qualcosa. Oggi, venendo qui, abbiamo notato tra l'altro molte buche nelle strade, perdite d'acqua. Insomma, possiamo dire un momento di degrado quasi conosce questa cittadina. Un momento drammatico per Squillaci, ma soprattutto per gli squillacesi che sulla propria pelle stanno soffrendo questo momento e lo stanno vivendo purtroppo quasi rassegnato. Ecco perché stiamo cercando di dare il nostro contributo nel migliore dei modi. Noi abbiamo messo su una squadra forte, questa sera la stiamo presentando, ma forte soprattutto per gli obiettivi che si prefigge, che è quello di ridare quella immagine e rilanciare questo paese, questo comune, come lei diceva, nel resto del nostro paese, ma del mondo intero, per la sua storia, la sua tradizione e per le caratteristiche che ha, per le possibilità che ha di diventare sempre più grande e di poter ancora essere un punto di riferimento di tante comunità. Ad oggi, dottore Misurac, l'ex sindaco Pasquale Mucra ha presentato la lista, ma lei con un mese di anticipo rispetto alla presentazione, quindi vuole giocare, diciamo, su un campo, una battaglia sulle idee. Proprio così, proprio sulle idee. Siccome noi le idee ce le abbiamo chiare, le abbiamo dimostrato, perché già da un anno abbiamo messo la faccia in questo, come si suol dire, in questa campagna, in questa dura competizione elettorale. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli di quello che facciamo, con la nostra storia e di quello che vorremmo fare. È un mese d'anticipo rispetto addirittura alla presentazione della lista. È la prima volta che accade una cosa del genere e soprattutto una lista già formata, quindi vuol dire che abbiamo le idee chiare, non aspettiamo come la vecchia politica l'ultimo giorno per modificare una pedina e giocare con due mazzi di carta. Le idee ce le abbiamo chiare, gli uomini sono in pista e lavoreremo fino alla fine. Dottore Mesoraca, perché votare candidato a sindaco Oldani Mesoraca e la lista tutti insieme? Proprio perché tutti insieme vogliamo lavorare. Noi questa sera daremo quale sono le linee generali delle prospettive che vogliamo dare a questa comunità. E sono tre le linee su cui ci muoveremo. La cultura, la ceramica, quindi la nostra tradizione e il turismo. Allora se noi mettiamo insieme queste tre rappresentazioni, questi tre momenti, diventa una filiera che può creare certamente sviluppo e occupazione. Ed ora tre brevi notizie di cronaca. Caporalato e immigrazione clandestina, 18 denunce nel Cosentino. 18 persone denunciate per caporalato e immigrazione clandestina. identificate altre 56 persone reclutate in violazione dei contratti nazionali e provinciali del comparto agricoltura. I finanzieri Cosentini hanno sottoposto a fermo, tra gli altri, sette furgoni in cui erano stipati, alcuni anche all'interno del vano portabagagli in condizioni degradanti, 56 braccianti agricoli di nazionalità pakistana, nigeriana, bulgara e rumena. E i carabinieri hanno trovato della droga nascosta in un appartamento disabitato nel Regino. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, col supporto del nucleo cinofili, dello squadrone riportato Cacciatori Calabria di Vibo Valencia, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. I militari hanno scoperto, grazie al fiuto di Marco, un pastore belga malinois, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, in un appartamento di Via Fobberti di Rosarno, attualmente disabitato, una busta contenente 700 grammi di marijuana e circa 40 grammi di semi di canapa indiana. Operazione Arma Cunctis, uno degli indagati ottiene i domiciliari. Antonio Filippone, indagato nell'ambito dell'operazione Arma Cunctis, ha lasciato il carcere di Reggio Calabria per aver ottenuto gli arresti domiciliari. Lo ha disposto il GIP che ha accolto l'istanza di sostituzione della misura presentata dagli avvocati Giuseppe Calderazzo del Foro di Locri e Pasquale Loiacono del Foro di Palmi, difensori delle 52enne di Antonimina. Il GIP distrettuale ha recepito le argomentazioni difensive. E a Catanzaro l'undicesimo congresso regionale di Lega Cop Calabria, il servizio. Anche il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha preso parte ai lavori dell'undicesimo congresso regionale di Lega Cop Calabria che si è celebrato oggi presso un noto hotel di Catanzaro. Le procedure congressuali si sono concluse con l'elezione del nuovo presidente, il successore della dimissionaria Angela Robbe, che ha lasciato l'incarico dopo essere stata chiamata a rivestire il ruolo di assessore regionale al lavoro. Abbiamo lavorato in questi anni per risalire la china, abbiamo imboccato la strada giusta, c'è tanto da fare perché i ritardi accumulati nel corso di decenni non si cancellano dalla mattina alla sera, c'è tanto da fare, però abbiamo imboccato la strada giusta. I trend dell'economia hanno assunto segno positivo, il turismo, il PIL, l'export, hanno assunto un segno positivo naturalmente recuperando un pezzo dei ritardi accumulati nel corso degli anni, la strada imboccata quella giusta, ma abbiamo bisogno di un governo che abbia realmente cognizione di come si affrontano i problemi per una regione come questa, perché a partire dalla vicenda del porto di Giugatauro si è in cauta libera. Noi abbiamo sottoscritto un accordo di programma con il precedente governo che è al palo, 150 milioni di euro che l'Europa ha messo a disposizione di Giugatauro che sono nella competenza della gestione del governo nazionale che non vengono spesi, le banchine che bisogna adeguare, i collegamenti intermodali che bisogna realizzare, opere programmate e nemmeno un euro nel corso di questi mesi ancora è stato speso, l'ho posto in una lettera precedente che ho fatto al Presidente del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture Toninelli, purtroppo ancora siamo lì, non solo, ma si è deciso di scorporare l'autorità di sistema dal porto di Giugatauro cacciando dall'autorità di sistema i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni per metterli in una nuova autorità portuale con Messina senza coinvolgere la Regione, senza sentire la Regione come previsto dalla legge siamo stati costretti per questo nostro malgrado ad impugnare questo atto presso la Corte Costituzionale, la Suprema Corte dirà se abbiamo torto o ragione ma al di là di questo c'è appunto una involuzione che non può non essere evidenziata e che io appunto la evidenzio con grande preoccupazione Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione arrivederci, alle prossime edizioni Grazie a tutti